La vecchia star power di Eugenio permetteva agli alleati di curarsi con la super Infatti se la mano magica di Eugenio andava a colpire un brawler Quest'ultimo si curava ed era diventato un po' vincolante questa cosa E si perdeva un po' il senso della super di Eugenio Quindi è stata sostituita in fretta E tu ti ricordi di questa star power? Scrivilo nei commenti